Allora, ascoltami eh. Allora, praticamente te le porti un bel mazzo di rose e di fiori di te, gli metti in sottofondo una canzone dolce e romantica tipo Il Tempo delle Mele e io ti garantisco che rimarremo amici per tutta la vita. Fagli anche gli occhi coccoriscini, ok? Così. Cosa ci guadagno io? Ah, perché tu vuoi essere anche pagato? Certo. Va bene, a fare fatto. Batterie nuove. Va bene, allora ti metterò, ti regalo la batteria ricarica rapida, va bene? Ok, ci sto. A fare fatto. Dammi la mano, insomma la mano, dammi questo muncherino qui, ok? Vai, vai lui. Ci penso io, tranquillo, com'è bello far l'amore da Trieste in giù, na 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 na. Tutto fatto. Grazie Luvo, sei il migliore amico che ho, anzi sei l'unico amico che ho qua dentro, ok? Grandissimo, grazie. Vai, vai, ora puoi andare. Ciao, prendilo. Ciao. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, na 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 na. Filippoli. Ciao, Max. Ciao, hai visto Benedetta? No, ma ho visto l'umo e mi ha detto tutto, 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 cosa? Ah, tesoro, ma perché non me lo volevi dire a me? E hai fatto portare quei fiori tramite l'umo per me? A te? Sì, ma il ristorante lo scelgo io, però mi raccomando, tanto tu sei sempre il solito timidone. Ma che diavogna, ma cosa? Ciao ragazzi. Ciao. Io sto aspettando l'umo per andare a cena fuori. A cena fuori con l'umo? E che ti porta? Dalle lettere auto a cena? Mi ha fatto ascoltare una canzone bellissima, te non capisci? Lui è dolce, è romantico e non come voi uomini e pesate sempre una cosa sola. A noi si pensa a quella cosa lì perché lui non ce l'ha quella cosa che ci sa noi. Lo dici te? Io ho il kit supplementare. E' fra te? Lumo, ma cosa hai fatto? Finalmente soli. Ciao Max. Come no? No? C'è l'umo. C'è l'umo. Se potete rubare il ruolo anche all'umo?